O non pioverà? Beh, questa indecisione riguarda un po' tutti, i tifosi coraggiosi che si sono presentati in massa allo stadio quest'oggi sfidandole in certe condizioni meteo, gli arbitri che preferiscono avere il massimo di visibilità, i giocatori che vogliono il campo al meglio, e anche te Luca magari, perché vedo che stai scrutando il cielo. Benvenuti a tutti voi che ci seguite, e invece, bene al coperto, da casa. Questo splendido stadio è stato a lungo il simbolo del dominio italiano in Europa. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Loftus-Cheek! Un riflesso fulminio, gran parata. Una bella parata, in risposta una buona conclusione. Non una grande idea, eh? Loftus-Cheek! Loftus-Cheek, con il fallo. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Calabria. Adli. Ecco Morata! Grande intervento del portiere. Una parata eccezionale. Un intervento d'applausi. C'è il lancio lungo. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. C'è il lancio lungo. La palla. La palla. La palla. C'è il lancio lungo. Spacero. Raffaele Auv. Provo a giocarla in profondità. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Alexi Sanchez! Segna lui! Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Si ricomincia dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Adli. Prova l'incorsione in avanti. Intervento difensivo all'altezza della manovra degli avversari. Intervento difensivo molto solo. Si è cominciato subito. Primi tocchi di gioco. Noftus-Cheek! Un riflesso fulminio. Gran parata. Una bella parata. Il risposto a una buona conclusione. Non una grande idea, eh. Loftus-Cheek! Loftus-Cheek con il fallo. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Calabria. Adli. Ecco Morata. Grande intervento del portiere. Una parata eccezionale. Un intervento d'applausi. C'è il lancio lungo. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. C'è il lancio lungo. C'è il lancio lungo. C'è il lancio lungo. C'è il lancio lungo. Alexis Sanchez. Zemura. Pagero. 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 Raffaele Au. Prova a giocarla in profondità. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione. Alexis Sanchez. Segna lui. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Si ricomincia dall'1 a 0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Ad lì. Prova l'incursione in avanti. Intervento difensivo all'altezza della... Si ricomincia dall'1 a 0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Ad lì. Prova l'incursione in avanti. Intervento difensivo all'altezza della manovra degli avversari. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Ottimo senso della posizione. Pericolo sventato. Lancia il compagno in profondità. Ciucuese. Tentativo di allungare il gioco. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Anche il compagno in profondità. Ciucuese. 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 Grazie.